allora bentornati amici oggi siamo a casa nostra ferrata nitostaici pronti prontissimi andiamo eccoci all'attacco qui inizia la ferrata eccola qua che parte bella secca adesso ci equipaggiamo e andiamo pronti? prontissimi, cominciamo! prontissima! via! le verticali sono un po' la palla perché ti va giù il cuore, bisogna tenere braccio sotto si è vero e poi ne togli uno per volta avvicinati un po' a rudi va così siamo più tranquilli l'inizio è tosto bello questo passaggio qui senza esposizione molto bello è stato un po' a rudi mi sposto ah qua c'è un bello scalino bellissimo non è bisogno di entrare qui? no! non è bisogno di entrare qui? no! ciao! ciao! adesso cambia il carro adesso cambia il carro andate cambia la questione attenzione guardate guardate vedete guardate vedete nei video siamo a punto di punti continuamente oh questa è fatta per mancini finalmente io mi sparo il ponte vabbè io ho fatto dell'acrobazia che a voi non servono però vado di là tanto i brevi mi metto di là così riesco a vedervi cosa fate adesso sì che ci ragioniamo bene adesso pian piano va ancora un pochettino a destra prima spostati i buoni scattoni davanti no metteteli prima davanti a te lì vedi che ancora sotto correggio riesce ancora a farli salire ma è un ponticello facile bello è già arrivata bravissimo bravissima milone visto da sopra il vecchio pilù qua che non è più andato avanti Alex è qua che non sei più andato avanti io ti capisco perché un po' di paura ce l'ho avuto anch'io ciao adesso metto un piacere un po' stanca infatti spero che si inizia perché mi fa vedere questo pezzo no qua è breve sto pezzo metti solo il cavo ecco vai su con gli scalini mi tolgo così vieni subito ah sì si stanno arrampicando qua di fianco fighissimo da qua li vedi non ci fate mani da casa allora giù di qui non andiamo andiamo su allora cosa dite andiamo su dai io vedi l'Europa quello lì quello lì ok bravissima ok aspetta devi metterla longe qui adesso un po' mi tosto questo pezzettino un po' tosto quel pezzettino che mi mancano le forze ok agganciati anche i gradini è così si è più sicura adesso c'è il cavo vita qui si sale si sale si sale attaccati a quel moschettoncino bravissima bravissima adesso arrivata al ponte è come un appoggio molto più comodo perché siano orizzontale un appoggio molto più comodo un appoggio molto più comodo e quindi adesso vedi il corso da si uscita che abbiamo un po' tollo un'altra cosa la cosa che mi piace è andata Sanchetta, io credo che ci sia ancora questa scaletta, gira l'angolo e poco più su. Quello che c'è con l'erba è finita, vero? Sì. Cosa c'è qui? Bella, eh? Sì. Ok, dai. Procediamo ancora un attimo. Qua bisogna tenersi al cavo perché devi fare diagonale, capito? Posso usare così. Tieni i belli larghi. Per i miei scalini si stanno più fieri. Questa è un po' molle. Vai sul tempo, poi c'è la raccoglia. Io. Esatto. Questo qua. Questo perché non fa tutto a te. Vedi quella faccia? No, no, è... Non lo farò. Guarda quello che può carlo, anche attaccarsi gli scalini, guarda. Allora qua... Vieni more, vieni. Ebai. Beh, vai. 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 Se... ... sei arrivata. No? Finita qua. Finita. Finita. Va. è molto bravo vuoi rifarla no no veramente era di qua è sbagliato hai di qui l'arrivo il mio corone va davanti la cri di savoia allora ragazzi siamo arrivati in cima alla ferrata è stata bella adrenalinica e faticosa fisicamente anche mentalmente dai metteteci un like se vi piace il video iscrivetevi al canale ciao